Ho guadagnato 13.000 euro. Solo una settimana fa ho registrato i miei dati su una piattaforma finanziaria in meno di 5 minuti. Li ho confermati con una telefonata per assicurarmi che non fosse una truffa. C'era un manager disponibile che mi ha spiegato che tutto è automatico. Ho depositato 240 euro che era l'importo minimo richiesto dalla piattaforma. Nonostante una temporanea diminuzione, il mio saldo è presto aumentato grazie a due operazioni riuscite. Ero scioccato quando ho notato che il giorno successivo il mio saldo era raddoppiato. Anche se ero tentato di uscire, ho continuato l'esperimento. Nei sei giorni successivi il mio saldo è cresciuto costantemente e più del 90% delle mie operazioni erano redditizie. Questa piattaforma si è rivelata sicura e affidabile. Alla fine della settimana ho incassato 15.000 euro, grato al nostro governo per questa opportunità. Il processo è semplice. Registrati, conferma il tuo telefono, fai un deposito e la piattaforma farà il resto. È un'ottima opportunità per tutti coloro che vogliono sbloccare il loro potenziale finanziario.